Allora, buongiorno a tutti e grazie per partecipare a questa conferenza stampa. Per me è una conferenza attesa da tanto tempo e quindi sono molto contento oggi di poterla fare. Eravamo quasi pronti prima dell'emergenza Covid, questa è la verità, e poi ovviamente l'emergenza ha messo di fronte altre priorità, ma appunto nel ritorno alla normalità torniamo su uno dei temi che era fondamentale come obiettivo dell'amministrazione, ovvero quello della riduzione del tempo di attesa, della lista di attesa, sulle quali avevamo veramente ottimi risultati prima Covid, adesso dobbiamo gradualmente tornarci. Sappiamo che non sarà banale, lo dico anche ai cittadini, insomma non è che si ritorna ad un'emergenza del genere e c'è la possibilità di recuperare domattina la stessa efficienza alla quale avevamo arrivati, ci sarà un tempo necessario per poter risistemare le cose e poter essere in grado di affrontare con i tempi giusti il tutto. Cerchiamo di farlo il più rapidamente possibile, quindi cercheremo di tornare a quei valori il prima possibile, ma ci deve essere comprensione da parte di tutti che ancora oggi non è superata, siamo ancora in stato d'emergenza, quindi si lavora con uno scartamento ridotto, si recuperano le persone all'attività, si registra l'attività anche in modo nuovo diverso, quindi ci vorrà un po' di tempo e torneremo ai valori straordinari che avevamo raggiunto pre-Covid. Ma quello che si aggiunge è l'altro aspetto, l'altro lato della cosa, è la semplificazione nella prenotazione. Mi ricordo che nel mese di gennaio il tema più delicato, più sentito, i messaggi che arrivavano in regione come messaggi di protesta erano sono stato mezz'ora al telefono con il call center per contare. Non era più sul risultato, cioè come esito, perché con l'aumento delle agende, soprattutto con la lista di garazia, cioè col fatto che se non mi viene data la risposta comunque vengo messo in un elenco sul quale poi si lavora per trovarmi in posto nei tempi previsti, brevi e differiti, hai addirittura la programmata, ricordiamoci di una grande innovazione, c'è quello di avere la programmata non solo nei sei mesi previsti, addirittura i quattro mesi che sono iniziati proprio con quest'anno. Dicevo, c'è un po' da soffrire, c'è un passaggio, dobbiamo riprendere, non possiamo più fare affidamento sulle vecchie prenotazioni perché non hanno più senso, sono scadute, non hanno... quindi si deve in modo ripartire, però dal mese di luglio immaginiamo che sia data utile, ripartiremo veramente avendo superato questo tema, perché io sono convinto che grazie a Federfarma, alla Sofarma che sono qui con noi, che hanno siglato un accordo per offrire questo servizio in tutte le farmacie marchigiane, facciamo un grandissimo salto di qualità, cioè la possibilità andando in farmacia di prenotare. L'abbiamo già sperimentato con alcune farmacie che sono rese disponibili, che ringraziamo moltissimo, c'è chi l'ha fatto da sempre, addirittura dalla vecchia sperimentazione di anni fa, chi si è aggiunto recentemente, in questa maniera veramente mettiamo a servizio tante persone. Qui con me, il Presidente regionale di Assofarma, di Federfarma e il Presidente dell'Anci, perché? Perché la farmacia è veramente nel territorio, insieme al Comune, il punto di riferimento delle comunità. Cioè l'idea dello spostamento sul territorio. Quando parliamo di portare le cose sul territorio, poche cose sono presenti come punto di riferimento, come le farmacie. Quindi è un contributo che noi diamo a tutti gli amministratori, mettendo a disposizione dei propri cittadini, e soprattutto dei più anziani, perché immaginiamo che siano i primi che apprestano come modalità il rapporto con la farmacia. Per i giovani cercheremo di fare app sempre più efficienti, sempre più efficaci, ma tanto noi sappiamo che hanno anche tutto sommato poco bisogno, per fortuna dico io, di un rapporto con la salute. Per i più anziani il punto di riferimento sono ovviamente gli sportelli, fanno il telefono, lo usano, ma con quella fatica che dicevamo prima dell'attesa, poter andare in farmacia e fare la prenotazione, io credo non abbia uguali, in termini di servizio, di vicinanza, di prossimità. Quindi veramente un grande salto di qualità, e quando nel mese di luglio, sperando di aver allineato sia le aziende che torneranno a offrire slot per i servizi, e la modalità, cioè quello di poter andare in farmacia a fare la prenotazione, con i medici di medicina generale, che voglio ringraziare, perché anche loro so che sono attenti a questa opportunità, ma soprattutto hanno portato la dematerializzata a livelli, chiamiamoli ormai quasi totali, permettendo e facilitando questo rapporto, perché ovviamente tutto funziona partendo dal medico di medicina generale che fa una ricetta dematerializzata e quella ha una velocità di processamento tale che giustifica anche l'intervento in farmacia. Quindi un ottimo accordo, la sanità sempre più vicina ai territori, sempre più vicina ai singoli comuni, dove la farmacia è un punto di riferimento. Voglio ricordare, l'ho già detto a loro direttamente, lo voglio ripetere oggi, il grande contributo che le farmacie hanno dato durante tutta l'emergenza. Sono rimaste un punto di riferimento costante per i cittadini, quindi un punto di riferimento importante, uno sportello sempre aperto, sempre a contatto con le persone, sappiamo cosa vuol dire avere gli sportelli durante una pandemia. riconosciamo il servizio dato con il farmaco ospedaliero portato nelle farmacie marchigiane. Lo ricordo sempre, no, non ce l'ho oggi, avevo una mascherina che mi ha dato il sindaco di Montepo Piolo che mi chiedeva, ma non si può fare anche per le ricette romagni, ecco, per le ricette dell'Emilia Romagna poterle avere in farmacia? E che no, perché quello è un altro sistema, noi funzioniamo meglio da questo punto di vista dell'Emilia Romagna, per noi è un vanto il rapporto che abbiamo con le farmacie pubbliche e private, ma quelle comunali e quelle private, che permettono di avere il farmaco sotto casa, senza fare tanti chilometri inutili, e parliamo anche di patologie importanti che trovano in questo servizio un grande conforto. Infine voglio ringraziare tutto il Servizio Salute, Tor Patrignani, Alasur, Giugio, di tutti quanti, anche il nostro Rudolf, Lars, eccetera, perché hanno fatto veramente un ottimo lavoro permettendoci di arrivare al risultato di oggi. Noi crediamo che con questo passi in avanti i cittadini marchigiani possano ancora una volta, dopo quello che hanno visto nella pandemia, essere orgogliosi dei loro servizi sanitari, perché dimostrano di essere efficienti nella parte, chiamiamola hard, del rapporto con le malattie, ma anche attenti alle cose più semplici come facilitare una prenotazione, che sembra una cosa banale, secondo me è una cosa di grandissima importanza. E' quella vicinanza ai confronti dei cittadini che fa sentire l'istituzione più vicina e più disponibile. Io farei in questa maniera, darei la parola alla mano qui a Luca Pieri, poi al Dottore, e lascerei l'intervento conclusivo proprio sullo spirito di questa iniziativa al Presidente Lanci, Maurizio Mandarati. Sì, grazie, grazie al Presidente, grazie a tutti quanti che hanno lavorato a far sì che questo accordo arrivasse in porto in maniera così positiva. Io aggiungo alle parole che ha detto il Presidente Ceriscioli una cosa, lo faccio da Vice Presidente Nazionale di Assofam, che è l'associazione che rappresenta tutte le farmacie comunali. Con questo accordo la Regione Marche è diventata la Regione in assoluto che riconosce il ruolo della farmacia, pubblico o privata che sia, come parte integrante del sistema sanitario regionale. Lo dico con i numeri, perché i numeri ci sono, questo è un accordo che è la parte finale, ma già anche nell'emergenza Covid essere stati i primi ad avere introdotto la distribuzione dei farmaci diretti, che oggi veniva fatta solo ed esclusivamente nelle farmacie ospedaliere. Avere introdotto questa cosa in tutte le farmacie, dando la possibilità al cittadino di non girare, di andare nella farmacia sotto casa, quindi di avere molto meno problemi. Lui e soprattutto il sistema, non andare in quale sistema, riportandola nell'alveo della DPC, della distribuzione diretta del farmaco, fa sì che la Regione sia quella in assoluto che è stata la prima, ma anche la migliore per numero di referenze che vengono distribuite, tutto il PHT. Quindi va dato atto al lavoro che è stato fatto, è un lavoro di concerto, avremo fatto decine e decine di riunioni negli anni per arrivare a questo risultato, e far sì che il Q sia la parte finale, la ciliegina sulla torta, denota la volontà dell'insieme di far sì che soprattutto le fasce più deboli, fasce più deboli, siano al centro del nostro lavoro, sia nella capellarità della farmacia, che quant'altro. Prima il Presidente diceva una cosa del sindaco di Monte Copiolo, io in un'assemblea di farmacisti a livello nazionale, c'è un credo 3.000 e passa farmacisti a Roma, ho portato l'esempio, visto che la mia società gestisce farmacie sia nelle Marche che in Emilia Romagna, della differenza che esiste tra il comune di Carpegna, il cittadino del comune di Carpegna, il cittadino del comune che sta di là nel confine con la Romagna. Il cittadino del comune di Carpegna va a prendere la quasi totalità dei farmaci che gli servono per la propria sopravvivenza, perché poi sono tutte malattie patologicamente gravi, nella farmacia sotto casa. Il cittadino dell'Emilia Romagna, purtroppo per molti di queste, deve fare 30, 40, 50 chilometri e capite che non è solo una questione sociale, ma anche una questione ambientale. Cioè, nelle Marche siamo i primi e credo che come sistema delle farmacie va dato atto alla Regione, va dato atto anche a tutti noi per il lavoro che è stato fatto, perché è un risultato veramente straordinario. Molto bene. Buongiorno a tutti. Grazie, prima di tutto, al Presidente della Giunta e al Professor Cerisoli. Grazie anche a tutti gli amministratori dell'ASUR, della Regione, tutti quelli che hanno collaborato per raggiungere questo importante risultato che ha richiesto un'elaborazione e un impegno di un anno e mezzo. Però alla fine abbiamo seguito gli indirizzi della Regione Marche, dettati proprio dal nostro Presidente della Giunta, che ha voluto fortemente dare al cittadino questo nuovo servizio per rendere la farmacia sempre di più una propagine del sistema sanitario regionale a disposizione di tutti i cittadini. Anche per noi questo è un grande risultato, ma io credo che bisogna dire una cosa, che la Regione Marche è sempre stata lungimirante. Partiamo dal 2009 con l'aderibile della Giunta che sancì i servizi, la farmacia dei servizi, e da lì è partito la DPC e tutti gli altri servizi che le farmacie mano a mano hanno implementato e devo dire che la conclusione di questo accordo porta la farmacia marchigiana a essere al top a livello nazionale. Ma non perché oggi siamo qui in una conferenza stampa, perché ribadisco le parole che ha detto Luca Pieri, perché anch'io ho degli incarichi a livello nazionale e quando mi vedono mi dicono ma voi come avete fatto a fare queste cose? E io dico l'abbiamo fatto perché abbiamo un'amministrazione regionale che negli anni è stata lungimirante e chi semina raccoglie. Quindi noi stiamo vedendo i risultati di un lavoro che è stato fatto negli anni e che ha agito in modo particolare valorizzando la capillarità della farmacia. Quindi in un mondo digitalizzato dove si fa tutto con le app, dove si fa tutto con diciamo internet, la farmacia offre il front office. E questo io credo che come bisogna avere successo nel mondo nel futuro diversificandosi, creando e cercando di andare incontro ai bisogni reali del cittadino, perché se eliminiamo tutti i front office il cittadino non saprà più dove andare a sbattere la testa. Quindi io credo che questa che ha fatto la Regione Marche è una farmacia innovativa e siamo di esempio per la nostra nazione. Anche come ci siamo comportati nell'emergenza coronavirus che la Regione ha dato immediatamente le linee guida per gestire, per come muoversi, come gestire il cittadino in farmacia. Ci siamo adeguati subito con i plexiglas, con i disinfettanti, con il distanziamento e credo che Federfarma e Assofar mi abbiano informato, tenuto informato in maniera, diciamo, tempestiva tutte le farmacie. Questo ha consentito che nessun farmacista in farmacia morisse di Covid perché queste, diciamo, procedure sono state fondamentali. Quindi io credo che oggi il sistema economico deve ripartire sia fondamentale prendere esempio da chi ha lavorato nell'emergenza. e ringrazio nuovamente il Presidente per la lungimiranza e tutti gli amministratori che hanno seguito questi indirizzi. Grazie. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. Presidente, grazie. Tanto il ringraziamento sentito, aggiungo quello del Presidente Ceriscioli alle farmacie per aver affrontato in maniera strutturata questa emergenza. Un ringraziamento vero. eravate al fronte. Eravate al fronte davvero e abbiamo avuto anche giorni di particolare tensione perché quello che accadeva nei pronti soccorso poi si riverberava inevitabilmente anche presso i vostri associati quindi c'è un grazie abbiamo avuto modo di sentirci in diverse occasioni. Poi molto orgoglioso di questo progetto. Vedete i comuni hanno sempre la necessità di avere i presidi e noi difendiamo sempre la presenza strutturata e allora anche in questo periodo ragioniamo sul tema medicina del territorio come articolarla come con i punti di forza e punti di debolezza. Ecco un punto di forza ovviamente è questo progetto enorme perché siete lì e noi vi vogliamo nei nostri comuni da Monte Copiolo vi vogliamo vi vogliamo mettere nelle condizioni di dare servizi e di essere il front office vero per i nostri concittadini e per i pazienti del sistema e allora avere la possibilità del farmaco dentro casa questo è il vero percorso e dare la possibilità di prenotare le prestazioni io penso che sia la modalità vera per diffondere per far sentire che il sistema sanitario arriva nelle case e trova interlocutori preparati non siamo al cup che per quanto siamo bravi ma non sono medici e quindi lì siamo davanti al professionista che è in grado anche di dare il consiglio di aiutare e di far sentire quello che per noi è più importante la vicinanza del sistema è la chiave vincente voi ne siete un pezzo determinante io penso che dobbiamo essere veramente tutti orgogliosi di raccogliere le vostre valutazioni che non sono perimetrate all'interno della nostra regione questa è la cosa più bella quando ce lo riconoscono gli altri poi magari quando arriviamo qui da noi sono sempre un po' più tigli ma quando sentiamo gli altri sapete ho anche un altro ruolo in questo ambito a livello nazionale e sentire bisogna fare come hanno fatto le marche veramente ci dice che siamo sulla strada giusta e quindi per i comuni marchigiani questa è la modalità di fare il sistema di arrivare al cittadino e per tutti noi essere presidio di benessere di salute nel territorio quindi presidente sosterremo questo progetto con grande determinazione molto bene adesso possiamo fare i giornalisti domande allora abbiamo la provincia di Fermo cosa è cambiato da marzo 2019 quando si è del farmaco molto politica ci fate capire bene il servizio e qual è il corso economico delle farmacie la stessa domanda sui certivi alle farmacie che si aderiscono il previsto un meccanismo di viscolo automatico la fa anche Francesco Tomei nella RAI allora sono due fronti diversi siamo prima quello più tecnico allora noi siamo partiti da una sperimentazione in realtà in cui abbiamo chiesto alle farmacie chi aveva piacere di aderire come ricordava il Presidente c'era già stata un'esperienza nella regione Marche degli anni precedenti qui si tratta di un ragionamento completo complessivo con tutte le farmacie sono 534 circa le farmacie tra le pubbliche e le private che sono nelle Marche quindi si capisce qual è il senso della distribuzione e se mi posso permettere di aggiungere una cosa anche se non richiesta noi siamo partiti tanti anni fa con la farmacia dei servizi anche con lo screening anche questa è una cosa tutta marchigiana e non così frequente nel resto dell'Italia sul discorso economico lascio la parola al collega che entra magari nel dettaglio del riconoscimento si volentieri come agenzia ci siamo trovati al tavolo di trattativa diciamo così con la so farma e federfarm che in verità non era una vera trattativa perché eravamo tutti nella stessa parte del tavolo io sono abituato anche a trattative molto più faticose e questa invece mi è stata più facile il compenso è lo stesso compenso che noi paghiamo per il CUP quindi non abbiamo chissà quali esborsi milionari ci sarà un minimo di costo aggiuntivo per un servizio regime ma non paragonabile no si darà poi grande priorità alle farmacie di quelle più isolate quelle nei paesi più nelle città più piccole dove c'è più difficoltà quindi veramente vicino ai cittadini si parte subito da lì con un servizio di formazione che ASURA ha già impostato la domanda credo sia per quante forze di rilano quella che è la seconda dunque io penso che ci sarà noi abbiamo garantito circa un 20% di adesione però io per come da quando ho divulgato diciamo l'accordo siglato alle farmacie ho avuto diciamo dei complimenti da diverse farmacie quindi io penso che il 20% sarà sicuramente raggiunto ma anche forse raddoppiato se non di più perché alla fine noi la trattativa l'abbiamo sempre portata avanti con uno spirito costruttivo non guardando solamente al vil prezzo e al vil denaro ma guardando al servizio abbiamo detto noi possiamo fare un servizio anche a un prezzo politico poi in futuro si vedrà però lo spirito è stato quello e quindi le parole del dottor Pasquini sono sono veritiere posso confermarle lo spirito con cui ci siamo seduti a questo tavolo era lo spirito di arrivare a un accordo comunque per dare per garantire un servizio al cittadino naturalmente la farmacia doveva aver garantito almeno la copertura e questo era lo spirito lo posso confermare con cui è stato fatto però credo che questo spirito mi sembra di averlo trasmesso alla base dei farmacisti che con entusiasmo mi hanno già chiamato per dire che sicuramente aderiranno a questo tipo di servizio per quanto riguarda le comunali credo che possiamo già dire da oggi che la totalità delle farmacie aderiranno nella fase della sperimentazione era stato per noi un pochino complicato ci ha detto benissimo Stefano Golinelli l'ambito in cui ci muovevamo era comune noi abbiamo la necessità di non rimettere nei servizi che diamo non pretendiamo di guadagnarci ma se non altro insomma arrivare a pareggio l'accordo ci permette di avere una remunerazione che garantisca insomma per la farmacia l'utilità del servizio consideriamo che nelle farmacie più piccole sarà abbastanza semplice ma nelle farmacie grandi soprattutto quelle cittadine che fanno una mola di lavoro grande ci saranno postazioni che dovranno essere dedicate perché fare una prenotazione comunque richiede del tempo ci sarà personale dedicato che andremo che andremo a formare per cui l'accordo è un accordo positivo proprio perché riportiamo dei servizi in farmacia che in passato in passato c'erano stati tolti e questa del CUP è un qualcosa che veramente come dicevo prima è una ciliegina che serve realmente al cittadino e alla fascia più debole la farmacia viene subito dopo insomma da quel punto di vista e l'obiettivo che ci hanno posti tutti a quel tavolo era proprio di raggiungere questo risultato molto bene ci tengo a sottolineare che il servizio è aggiuntivo cioè l'attivazione di questo servizio va ad aggiungersi e di fatto aiuterà anche chi telefonerà perché nel momento in cui una quota importante di prenotazione vengono fatte in farmacia è chiaro che si fa molto prima anche ad avere una risposta telefonica quindi sono quelle cose di sistema che facilitano poi su tutti gli aspetti Luca Tassi agenzia dire quali sono i tipi di visita ed esame che si possono prenotare tutti o solo alcune tipologie tutti 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 quelli a CUP e da quando sarà il regime il servizio di prenotazione sempre ho fatto questa ipotesi dal mese di luglio c'è di mezzo la formazione l'adesione quindi immagino che l'inizio luglio già sarà un numero di diciamo che sì alcune già partiranno probabilmente anche dalla prossima settimana a quelle che sono già esatto quindi Raffaele Vitani provincia di Fermo chiedeva che sarà una formazione sì e che arriverà anche al pagamento della visita direttamente in farmacia per i due ulteriori passaggi è uno degli obiettivi che ci stiamo ponendo servono dei passaggi tecnici che devono essere superati ma è uno degli obiettivi insomma diciamo che a regime arriveremo anche questo dobbiamo superare dei passaggi tecnici che il denaro che il farmacista incassa non è il denaro della farmacia ma è il denaro del servizio e quindi si tratta tecnicamente di trovare affinare la modalità ma è molto anche questo arriverà ai soldi abbiamo 20 minuti perché abbiamo 20 minuti di ritardo nella trasmissione per farvi vedere se ci sono altre domande 20 minuti 20 secondi se vogliono grazie grazie al lavoro di Federfarma in principal modem abbiamo fatto un filmato che faremo girare in tutte le nostre farmacie e vorremmo che girassi anche nei social in cui insomma viene riconosciuto il lavoro che è stato fatto si può anche far girare se è il filmato che abbiamo quello che avete voi se lo volete se hanno finito le domande abbiamo messo nella stampa di WhatsApp i giornalisti ce l'hanno già a disposizione effetto da Francesco Tomei della RAI il 20% di attenzione a cui si faceva riferimento in precedenza che quota rappresenta? no ma è una stima minima 120 farmacie arriveremo quindi non meno di 120 farmacie dove il CUP esiste nelle altre regioni perché alcune regioni lo fanno da anni la totalità la quasi totalità delle farmacie serve un minimo di percorso per arrivarci ma ci arriveremo a questo considerate in Emilia Romagna circa il 40% delle prenotazioni del CUP attiene in farmacia in grosso modo è quello per cui arriveranno tutti a farlo adesso si tratta di farle partire perché ci vuole del tempo diciamo che il primo step si sarà un'implementazione graduale si comincia e poi dopo mano a mano quindi l'obiettivo è avere tutte la fine 20 secondi e poi ho detto che chiudiamo quindi non vedo altre domande per cui le domande dei giornalisti sono ringraziamo ringraziamo tutti quanti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti